Ciao a tutti ragazzi, io sono Mirko Cuzzilla e sono uno studente dell'OIAL di Pordenone. Frequento il corso Maker, ovvero artigiano digitale, e lo scopo è di diventare in pochi anni un artigiano digitale professionista. Questo è il nostro laboratorio. In fondo a sinistra troviamo la fresa, nella parte centrale le stampanti 3D, e in fondo a destra il taglio laser. Vi mostro una delle macchine che utilizziamo fin dal primo anno, ovvero la stampante 3D. La stampante 3D possiamo utilizzarla in diversi modi e con diversi materiali. Uno dei materiali principali è il PLA, ovvero fatto di amido di mais e patate. Con la stampante possiamo realizzare tutto ciò che disegniamo in 3D, ovvero con SOLIDWORKS, un programma di modellazione 3D professionale ad alta precisione. Questo è SOLIDWORKS, uno dei software che usiamo maggiormente. Nel corso degli anni abbiamo fatto tanti progetti. Uno è questo, ovvero un portachiavi a forma di lattina da Coca-Cola. Possiamo realizzare tanto altro, ovvero portachiavi di diversa forma, di diverso tipo, o utensili comunque diversi. Questo è il taglio laser, lo vedete al mio fianco. Abbiamo realizzato delle cassettiere per il laboratorio, così da non disperdere in tutto il laboratorio le viti e gli utensili che utilizziamo di solito. All'interno del corso non facciamo soltanto modellazione 3D, ma programmiamo pure schede elettroniche tipo Arduino, per comandare robottini, LED e molto altro. Bene, se volete saperne di più sul corso, oppure venirci a trovare, potete andare sul sito www.lofattoio.com